Buonasera, ben ritrovati al nostro Consueto appuntamento con l'informazione Questa sera in primo piano Le blusonne, i segreti della longevità dei Sardi Raccolti in uno studio pubblicato sul Corriere della Sera Insomma una lista di comportamenti che sono usuali nei nostri piccoli centri Vediamo Il tema della longevità porta la Sardegna nuovamente in prima pagina Il Corriere della Sera, il più letto tra i quotidiani italiani Anche in versione digitale Dedica infatti un lungo articolo sulla longevità E sulla ricerca dei segreti della lunga vita Partendo dagli studi effettuati dal divulgatore e saggista Dan Wettner Lo scrittore insieme ad un'equipe di medici Ha cercato di capire cosa avessero in comune Zone che per quanto lontane Vantano un alto tasso di centenari o ultracentenari Tra queste zone conosciute ormai come blusonne Cennuoro l'unica in Italia in particolare la Barbagia di Seulo Poi l'isola di Okinawa in Giappone L'isola di Ikaria in Grecia La penisola di Nikoyan in Costa Rica La città di Loma Linda in California dove vive una comunità di fedeli Alla chiesa ventista del settimo giorno Dan Wettner ha analizzato le popolazioni longeve E ha individuato almeno nove caratteristiche comuni Si muovono in maniera naturale Niente palestri o lunghe maratone Ma attività all'aria aperta Coltivano orti e o curano il giardino Danno un senso alla propria vita Hanno cioè una motivazione per alzarsi la mattina Un senso delle cose Che vale secondo gli studiosi almeno sette anni di vita in più Vivono in maniera rilassata Senza farsi prendere dallo stress Mangiano con moderazione Le persone che vivono nelle blue zone Consumano il pasto più leggero a metà serata E poi non mangiano più per il resto della giornata Seguendo inconsciamente i cicli biologici del nostro corpo Consumano inoltre molti legumi In tutte le blue zone Il 95% delle calorie assunte Sono di origine vegetale E solo una piccola parte è di origine animale Poi sono diete ricche di noci Mandorle, pistacchi e in generale semi Bevono vino con moderazione Ed evitano il tabacco Secondo lo studio i bevitori abituali Di uno o due bicchieri al giorno Sopravvivono più degli astemi E qui l'autore dell'articolo Tira un assist alla Sardegna Perché si parla esplicitamente di anziani Che si dissetano con il cannonau Ricco di antiossidanti Coltivano il senso di appartenenza La quasi totalità dei centenari Ha un qualsivoglia credo religioso E molti frequentano la comunità di fede Infine vivono in un ambiente sano In compagnia del gruppo sociale Di appartenenza o degli amici Quindi l'autore della ricerca Trae una logica conclusione Per vivere fino a cent'anni Non c'è bisogno di avere Un fattore genetico particolare Basta adottare gli stili di vita Delle blue zone E si può cominciare Anche dopo la mezza età E aggiungiamo noi Si può trascorrere un periodo di tempo In Sardegna Per imparare dai nostri anziani La porta è aperta Anzi continuità territoriale permettendo Ci sono i piccoli paesi dell'interno Disposti ad accogliere i nuovi abitanti A braccia aperte E l'invito arriva Proprio dai piccoli centri Quelli sotto i 3.000 abitanti Qua il fenomeno dello spopolamento Rischia di veder svuotare Tanti paesi Tante comunità Ma ci sono delle misure Messe in campo dalla regione Che sembra stiano dando I primi risultati Parliamo del bonus I piccoli centri soffrono L'abbandono dei territori Il fenomeno che sta svuotando Tanti paesi della Sardegna A vantaggio delle grandi città Che offrono invece attività e servizi Tarati sui cittadini Dimensionati sulle esigenze delle famiglie Un declino Questo della popolazione Già in atto dal 2015 E colto di recente Anche dall'Istat Nel censimento Che fotografa le culle vuote dell'isola Ovvero l'andamento della natalità Quel saldo naturale Dato dal rapporto Tra i nati e i morti Che non depone Certamente A favore dei primi E se a livello regionale La statistica ci dice Che vengono al mondo Pochi bambini La ragione andrebbe ricercata A metà strada Tra la crisi economica E l'incertezza sul futuro Il tasso di occupazione Delle mamme È per tutte le età fertili Sistematicamente più basso Di quello delle donne Senza figli Circostanza che evidenzia Quanto poco Il mercato del lavoro Contempli La conciliazione familiare È quanto questa consapevolezza Scoraggi e spaventi Chi vorrebbe affacciarsi All'esperienza della maternità Un calo demografico Che preoccupa Tanto che in questa legislatura La regione È corsa ai ripari Con iniziative A contrasto Dello spopolamento E adesso si stanno Ottenendo i primi riscontri A partire già Dal bonus Bebè riconosciuto Sotto forma di assegno mensile Di 600 euro A favore di nuclei Che risiedono O trasferiscono Alla residenza Nei comuni Con meno di 3.000 abitanti Per ogni figlio Nato Adottato O in affido Preadottivo Nel corso del 2022 E negli anni successivi Fino ai 5 anni Del bambino E sono oltre 1.400 Le famiglie Che negli ultimi 12 mesi Hanno visto crescere La stirpe Con l'arrivo Di un piccolo Ad allietare I neogenitori Un esordio Che fa ben sperare Ha commentato Il presidente della regione Cristian Solinas Lo scopo infatti Era quello Di alimentare la vita Nei piccoli centri Con un aiuto importante In favore della natalità A cui si aggiungono Le misure sui mutui Per la prima casa E per le attività produttive Tutte queste linee d'azione Ha sottolineato Il governatore Hanno un unico obiettivo Fare in modo Che ogni comune E ogni territorio Soprattutto i più piccoli E i più fragili Possano avere La capacità Di riscattarsi E generare Crescita e sviluppo Duraturi Intanto Già da quest'anno Le risorse Per il bonus Nascita Sono destinate A crescere Solo nella finanziaria Approvata Fine gennaio Sono programmate Per il triennio Quindi fino al 2024 99 milioni Di euro complessivi Che si aggiungono Ai 7 milioni Stanziati Per il 2022 Mentre altri 46 milioni Previsti Per l'annualità 2025 Portano La somma totale Del bonus Bebè A 105 milioni Di euro Adesso Vediamo di esplorare Insieme La nuova frontiera Del geoturismo Un segmento Appunto Del settore Che si basa Sulla comprensione Della geologia Della geomorfologia Dei siti Allora La consapevolezza Di promuovere Non solo i luoghi Ma tutto Il patrimonio Annesso Vediamo di che si tratta Un bilancio Una previsione La consapevolezza Che scommettere Sul territorio Il nostro E sull'immenso patrimonio Culturale Storico Ambientale Tanto Tanto Altro Ancora Paga Ecco Allora Il bilancio Del geo Sard Disse Un format Sul turismo Riadattato Alla Sardegna Nato in Sordina Oggi È una realtà Completa Anche perché L'intuizione Di puntare Sul geoturismo È pienamente affina Alla valorizzazione Dei luoghi E alla scoperta Della bellezza Da presentare Ai turisti Attraverso questo Elemento Poco conosciuto E poco valorizzato Si possa poi Portare tutto il resto Quindi Chiavi di lettura Antropologiche Archeologiche Paesaggistiche Naturalistiche Quindi Diciamo che La scusa È il geosito Ma in realtà Andiamo a vedere Un territorio Con tutte le sue componenti Altre parola d'ordine Valorizzare E promuovere Ancora di più La Sardegna In vista della stagione 20-23 Sì sì Prima di tutto Chiaramente Però bisogna conoscere E ci siamo accorti Che la conoscenza Non è così diffusa E radicata Quindi è bene Sensibilizzare Soprattutto i residenti Affinché siano I veri protagonisti Dalla riscoperta Di questi territori Un lavoro di squadra Questo del geosardgis Anno secondo Che vede la collaborazione E l'unione Di tante realtà E profili Dei comuni Di Arbus Cagliari Capotere Villa Salto E poi l'associazione Amici di Sardegna Il CAI L'ASEcom Associazione Senza Confini Quella del Parco Geo Minerario L'IGAG Del CNR La Fondazione di Sardegna Il Centro Servizi Ambiente Sardegna E l'Urban Challenger Sport Events LDA Parola d'ordine Unione E conoscenza Il primo anno Abbiamo coinvolto Quattro comuni Arbus, Cagliari, Capoterra E Villa Salto Il prossimo anno Andremo avanti Con altri Quattro comuni Dell'interno Della zona centrale Della Sardegna E infine Nel 2024 Concluderemo Con il nord Sardegna Intanto il progetto Che ha il primo anno Ha coinvolto il sud Ora si sposta Nel centro Per concludersi Al nord Tutto le nome Del turismo Nuovo Come quello All'aria aperta Tutto quello Che riguarda L'uomo La sua frequentazione Dell'ambiente Sia per poterlo Sfruttare Nel tempo libero Ma sia come tutela Dell'ambiente stesso A noi sicuramente Interessante E a proposito Di Geocity Un'altra occasione Di sviluppo Di promozione Del territorio Assolutamente sì Perché la conoscenza Del territorio Permetterà al turismo Di arrivare in Sardegna E comunque Di offrire Al turista stesso Che arriva Tutta una serie Di attività Che oggi Come oggi Sono un po' Troppo limitata Solo al settore Gastronomico Quindi dobbiamo Cominciare a far conoscere Il territorio Sia dal punto di vista De Geocity Ma parlo anche A livello archeologico Cioè a 360 gradi Perché sicuramente Noi potremmo Diciamo Guadagnarci tanto Da fornire dei servizi In questo senso E allora La sfida Del geoturismo È appena cominciata Oggi un giorno importante Per la brigata Sassari 108 candeline Ma soprattutto Il riconoscimento Alla brigata Con la croce D'argento Al merito Dell'esercito Giornata importante E solenne Per la brigata Sassari Che nella caserma Monfenera di Cagliari Ha festeggiato Il 108esimo Anniversario Della sua costituzione Era infatti Il primo marzo Del 1915 Quando nacquero I due reggimenti Storici Il 151esimo A Sinai E il 152esimo A Tempio Pausania I fanti Della brigata Sassari Valorosi soldati Ribattezzati Dimonios Per il granitico Senso del dovere E il coraggioso impeto Durante gli assalti Furono tre protagonisti Nelle trincee Della prima guerra mondiale Un tributo Di tanti giovani Nei quattro anni Al fronte 3819 caduti E 9104 feriti Alla fine del conflitto Dopo quattro anni La Sardegna Non solo tra gli effettivi Alla brigata Conterà 13.602 morti Ed è soprattutto Al loro coraggio E al loro spirito Di abnegazione Che oggi la ricorrenza Guarda con rinnovato orgoglio Un simbolo di un popolo Per i valori E le capacità espresse In 108 anni di storia Dai militari Dell'esercito Distanza nell'isola Un coraggio Che valso Ai sassarini La croce d'argento Per il loro impegno In prima linea Durante i difficili mesi Del covid La brigata Sassari È una unità Che per l'esercito Ha valore Ha valore Non solamente Per quello che Diciamo Rappresenta Per le tradizioni La prima guerra mondiale Ma anche La seconda guerra mondiale Nei Balcani Le operazioni Che ha fatto Di recente Ma soprattutto Per le capacità Professionali Che riesce Ad esprimere Per cui L'esercito Non può rinunciarvi L'esercito Investirà Su questa unità E prossimamente Il programma È quella di Trasformarla Di dargli più valore Di dargli mezzi diversi In modo che possa essere Più operativa E impiegabile La medaglia Che oggi daremo Avrò l'onore Di appuntare Sulla bandiera Del reggimento logistico Della Sassari Ci dice Come Nel momento In cui Tutti Quasi tutti Erano Preoccupati Della contaminazione Da Covid C'era qualcuno Che si preoccupava Di Di risolvere I problemi Il reggimento logistico Della Sassari Come altre unità Sono state Protagoniste Perché Hanno trasportato Vaccini Si sono preoccupati Di stare vicino Anche A gente Isolata E quindi Confortarli Con la loro presenza Il primo impiego Del reggimento Sul fronte Del Covid-19 È stato Nel settembre Del 2020 Poco meno Di un anno Dopo la sua Costituzione Nell'operazione Ad Adivando Un'attività nata Da un protocollo D'intesa Tra la difesa Con la supervisione E il coordinamento Del comando militare Esercito Sardegna E della regione Per effettuare test Ed esami di laboratorio Sui campioni raccolti Dalle categorie Di lavoratorio a rischio E da persone Considerate più esposte A contagio Nell'operazione Il reggimento È impiegato Propri team Per i trasporti E assetti sanitari In concorso Al personale Che effettuava i prelievi Durante l'attività Conclusa Si a marzo Del 2021 Sono stati effettuati Oltre 15.000 test Sierologici 108 anni Sono tanti Però la brigata Sassari È una brigata Giovane È una brigata Giovane Tra l'altro Il più giovane Dei suoi reggimenti Il reggimento Sassari Ha avuto Nella pandemia Un ruolo fondamentale Quindi Nella testimonianza La concessione Della croce D'argento Al merito Dell'esercito Che oggi Verrà appuntata Sulla sua bandiera Di guerra La gloriosa Sassari È tuttora operativa In difficili scenari Di guerra Da quasi 30 anni Svolge infatti Un ruolo Di primissimo piano Nelle principali Operazioni in patria Nelle missioni Di pace All'estero In paesi Dilaniati Dai conflitti Come il Kosovo L'Iraq Prima E più di recente L'Afghanistan Dopo il rientro Del Qatar Ci sarà tutto Un piano Di attività Addestrative Che ci consentiranno Di mantenere Le capacità acquisite In virtù poi Dei prossimi impegni Che saranno Un po' più avanti È tutto Grazie per essere Stati con noi Vi auguro Un buon proseguimento Di serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti